Il ritiro romano del Pescara si conclude con la vittoria per 7 a 0 in un amichevole contro la Beretti della Rupa Roma. Mister Baroni divide in due il gruppo, in campo il nuovo arrivo Vrdojak, qualche ragazzo della primavera, e chi, per scelta tecnica o infortunio, non ha avuto tanto minutaggio. Il resto del gruppo, lavoro differenziato. Buon inizio dei padroni di casa, a mille su ogni pallone. La gara si sblocca al ventisettesimo con Pasquato, raddoppio di Brukman al minuto 34. Ad inizio ripresa c'è gloria anche per il nuovo arrivo Vrdojak, apparso subito in buone condizioni, grintoso e con buona tecnica. 120 secondi dopo assegna ancora Pasquato, autore poi di una tripletta su punizione, da Silva su rigore, e chiude la gara a Brukman, autore di uno splendido palonetto, a scavalcare l'estremo difensore Bolletta. Il resto del gruppo ha lavorato a parte, con lavoro prevalentemente atletico, da segnalare un dialogo serrato tra Baroni e Bjarnason. A ciò si aggiunge il caso Maniero, che, ai tifosi biancazzurri presenti, ha ripetito il suo amore per la maglia e la volontà di restare. Per quanto riguarda invece Vrdojak, il suo procuratore, in una breve intervista, ci ha detto come il ragazzo è dotato di buona tecnica e ha doti prevalentemente offensive e che sarà un talento tutto da scoprire.